Ciao a tutti e benvenuti a Mr. Paloma Podcast. In questo episodio parleremo di cosa cambia per i backup WhatsApp le nuove regole di Google e come affrontarle. Negli ultimi mesi, Google ha annunciato un importante cambiamento riguardante i backup delle chat di WhatsApp per gli utenti Android. Fino ad ora, Google offriva uno spazio di archiviazione aggiuntivo e gratuito dedicato esclusivamente ai backup di WhatsApp, che non veniva conteggiato nello spazio complessivo di Google Drive, Google Foto e Gmail. Tuttavia, a partire dalla fine del 2023, questa agevolazione verrà eliminata. Ciò significa che i backup delle chat WhatsApp, che possono arrivare ad occupare diversi gigabyte di spazio, andranno a occupare parte dello spazio di archiviazione condiviso con tutti gli altri file presenti sul tuo account Google. Se lo spazio di Google Drive è già ampiamente utilizzato, potrebbe non esserci più spazio sufficiente per i backup delle chat WhatsApp. Per prepararsi a questo cambiamento, è fondamentale verificare quanto spazio di archiviazione è attualmente disponibile sul tuo account Google. Puoi farlo controllando la dimensione del backup WhatsApp nelle impostazioni dell'app e quindi accedendo alla sezione Google One per verificare lo spazio complessivo disponibile. Se lo spazio risulta insufficiente, ci sono diverse strategie da considerare. La prima è quella di liberare spazio eliminando chat vecchie, contenuti multimediali non necessari e file inutilizzati o duplicati da Google Drive e Google Photo. Un'altra opzione è sottoscrivere un abbonamento a Google One, che offre spazio di archiviazione aggiuntivo a partire da 1,99 euro al mese per 100 gigabyte. È importante prestare attenzione a questo cambiamento, in quanto il conteggio del backup WhatsApp su Google è iniziato nel 2023 e si concluderà entro il 2024. Se non hai ancora ricevuto alcun avviso, è probabile che lo riceverai a breve, quindi è consigliabile prepararsi per tempo. Gestire in modo efficiente lo spazio di archiviazione sul tuo account Google sarà fondamentale per garantire che i tuoi backup WhatsApp non vengano interrotti. Valuta le tue esigenze di spazio e segui le strategie suggerite per affrontare al meglio questa transizione. Grazie per aver ascoltato. Se vi piace il podcast, non dimenticate di seguirci sui social media, visitare il nostro sito web mrpaloma.com